I lavori alla palestra polifunzionale di Venafro termineranno entro il prossimo aprile. Tirano un sospiro di sollievo le tre società tra calcio a 5 e basket e con loro le centinaia di ragazzi che quotidianamente si allenano nell'impianto di via Pedemontana. L'annuncio sulla tempistica di fine lavori in una recente intervista resa i nostri microfoni dal sindaco Alfredo Ricci anche per mettere un neanche troppo metaforico ombrello sulle polemiche legate alle infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto che a causa dei lavori di ristrutturazione stanno creando non pochi problemi nella struttura. L'altra faccia della medaglia è che grazie all'autorizzazione concessa dall'amministrazione non era scontata nonostante sia un cantiere la palestra rimane aperta e consente le attività sportive che altrimenti, stante l'assenza di altri impianti, in città sarebbero state impossibili. Proprio per fronteggiare l'annosa carenza, il presidente e consigliere neodelegato allo sport Dario Ottaviano annuncia di star lavorando ad intercettare risorse per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport. Sfumata la possibilità di accedere ai fondi del PNRR, si stanno valutando altre strade. Al momento siamo alle mere intenzioni tra i nodi da sciogliere, a parte quello essenziale legato alle risorse necessarie, quello relativo all'ubicazione. In passato si era parlato dell'area prospicente alla piscina provinciale. Il terreno è di proprietà della Pia Unione, ma probabilmente è già stato individuato per un altro progetto. Abbiamo raccolto alcune voci in città. Intanto si comincino a trovare i soldi. L'opinione comune.